Siamo in via Vittorio Veneto 244, siamo con Marta e la salutiamo con piacere anche perché in un momento particolare come questo una ragazza giovane come Marta apre un'attività, un negozio di abbigliamento. Che tipo di abbigliamento sarà? Abbigliamento principalmente sono taglie comode, noi teniamo un po' di tutto e vestiamo tutti, però principalmente cerchiamo di basarci più sulle taglie comode. Qui praticamente tutte quelle taglie per cui magari c'è mezzo numero in più o mezzo numero in meno, qui lo trovano da te? Esatto, noi vestiamo dalla 40 fino alla 56, 58. Senti, che tipo di abbigliamento è? Teniamo come ginseria, teniamo Chiara d'Alba e Carla Ferroni sulle taglie comode e puntiamo sul giovanile, su roba un pochino più sfiziosa, un pochino più giovanile. Da quanto ho capito avrete non tantissimi pezzi in modo tale da non ripetere per tutti, come vediamo in alcuni negozi di abbigliamento escono tutti vestiti nello stesso modo. Esatto, sì, tendiamo a avere non pezzi unici ma insomma comunque non teniamo grandi numeri di pezzi, almeno vestiamo più svariato la città.